sport approvato il piano triennale impugnativa al bilancio l'assessore tronzano relaziona in aula riduzione delle emissioni di ammoniaca via libera alla deliberazione sul piano stralcio agricoltura nuova edizione di consiglio news ben trovati approvato il piano triennale sullo sport forti investimenti sull'impiantistica è stato approvato con 26 voti favorevoli 14 non votanti e uno contrario il programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive e per l'impiantistica con 8,6 milioni di euro nel 2023 agli impianti sportivi piemontesi sono state destinate le risorse più alte degli ultimi decenni a fine mandato avremo investito su questo capitolo oltre 20 milioni ha dichiarato l'assessore fabrizio ricca il provvedimento definisce le politiche strategiche le linee di indirizzo prioritarie in attuazione della legge 23 del 2020 prevede tra l'altro misure per l'efficientamento energetico il completamento degli impianti esistenti nuovi impianti in aree carenti o a vocazione turistica il recupero e la ristrutturazione di impianti di eccellenza destinati a gare di livello nazionale e internazionale è un piano molto importante perché interviene su un settore fondamentale per per il piemonte che quello dello sport interviene per la promozione sportiva e per l'impiantistica sportiva sappiamo che incide quasi per il 2 per cento sul pil nazionale si poteva fare sicuramente di più sono anni che sosteniamo determinate esigenze su alcune siamo stati presi in considerazione dall'altra parte l'aggiunta ancora tentenna quindi riteniamo doveroso sollecitare maggiormente l'attenzione su questo importante tema impugnativa al bilancio l'assessore tronzano ha relazionato in aula critiche le opposizioni confronto in aula tra maggioranza e opposizione sull'impugnativa del governo dell'articolo 8 della legge di bilancio le contestazioni del governo riguardano la possibilità di spalmare sino al 2032 l'accantonamento di 1,5 miliardi concordati come fondo di garanzia per i pagamenti ai fornitori della sanità ha rimarcato l'assessore Andrea Tronzano relazionando all'assemblea sulla sanità in senso lato non togliamo soldi quindi nella sostanza l'articolo di cui si discuteva riguarda soltanto la cassa cioè i soldi che escono non c'è più bisogno di dare quei 200 milioni all'anno che l'aggiunta Chiamparino ci ha costretto a fare ma possiamo dare soltanto 93 speriamo che il governo ci dà ragione se non ci dà ragione andremo alla corte costituzionale per vedere chi ha ragione Questa è una legislatura che sta pagando pesantemente quello che le amministrazioni precedenti hanno fatto ciò nonostante stiamo tenendo il bilancio in equilibrio e ancora una volta nulla sarà tolto dalla sanità Critiche le opposizioni La preoccupazione è che si ricada nel piano di rientro cioè nello squilibrio strutturale della sanità si tornerà a far soffrire i fornitori o si taglierà da qualche parte la sanità Approvato all'unanimità il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 del Consiglio regionale Le entrate oltre 50 milioni di euro derivano quasi tutte da trasferimenti regionali mentre le uscite ammontano circa 44 milioni Tra le voci principali ha spiegato nella relazione il presidente Stefano all'Asia Figurano 16 milioni di euro per il personale a tempo indeterminato quasi 8 milioni per le indennità e i rimborsi dei consiglieri in carica 6,6 milioni per i vitalizi e 3,2 per i contratti di diritto privato dei collaboratori 3 milioni e mezzo sono stati spesi per gli investimenti Riduzione delle emissioni di ammoniaca prodotte dagli allevamenti Via libera al piano stralcio agricoltura Ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo così come previsto dalle normative europee Questo è l'obiettivo della proposta di deliberazione sul piano stralcio approvata dal Consiglio regionale Tutti i votanti hanno espresso parere favorevole tranne una stensione Tra gli obblighi c'è l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per l'allontanamento rapido delle deiezioni degli animali di interesse zootecnico dalle strutture che li ospitano per convogliare i reflui nel più breve tempo possibile ai sistemi di trattamento e stoccaggio La cerele approvazione del piano stralcio è fondamentale per adempiere correttamente a quanto disposto dal piano regionale qualità dell'aria approvato dal Consiglio regionale e dalle disposizioni straordinarie approvate dalla Giunta a febbraio 2021 nonché per rispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea sulle polveri sottili PM10 In dichiarazione di voto è intervenuto Matteo Gagliasso Lega che ha sottolineato come la predisposizione del provvedimento sia avvenuta con il coinvolgimento dell'associazionismo del mondo agricolo Collaborare in modo che anche nel mondo agricolo non sia visto come un qualcosa di difficile da attuare ma un qualcosa da portare a compimento insieme per cercare appunto di diminuire l'inquinamento nel nostro territorio ma senza dover andare a vessare ulteriormente gli agricoltori e gli allevatori della nostra regione Il Consiglio regionale nella seduta di martedì ha effettuato a scrutinio segreto alcune nomine Stefano Rigon e Marzio Ciravegna entrano nel Collegio dei Revisori dei Conti di Torino in Contra Desir Cisotto e Andrea Ricci nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione del Teatro Stabile di Torino Graziano Tirone è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Museo Nazionale dell'Automobile Altre nomine riguardano la Fondazione Film Commission Piemonte il laboratorio chimico dell'azienda speciale della Camera di Commercio di Torino e il Consiglio Direttivo dell'Associazione Abbonamento Musei Il registro tumori si adegua alle regole dell'Unione Europea in materia di dati personali Il Consiglio ha approvato all'unanimità il Regolamento Norme per il Funzionamento del Registro Tumori della Regione Piemonte Si tratta di un aggiornamento al testo entrato in vigore nel 2016 necessario per adeguarsi alla nuova normativa europea in materia di dati personali Il Registro Tumori è un sistema di raccolta di dati personali, anagrafici e sanitari dei casi di tumore realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche a supporto delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria Il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel registro tumori è l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino presso cui è istituito il registro Autoconsumo da fonti rinnovabili, iniziato l'esame della PDL, rivolta al Parlamento Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame della proposta di legge, affirma Raffaele Gallo, Partito Democratico rivolta al Parlamento, già licenziata a maggioranza dalla Terza Commissione sulle misure di ulteriore incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili La PDL prevede di affiancare all'autoconsumo istantaneo un'effettiva incentivazione dello scambio all'interno di una comunità dell'energia rinnovabile o di un gruppo di autoconsumatori Il testo prevede anche lo sgravio fiscale del 70% per la realizzazione degli impianti fotovoltaici per le comunità energetiche per i soggetti con ISEE pari o inferiori a 12.000 euro o nel caso di un nucleo familiare con quattro figli con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro Nella relazione di maggioranza Matteo Gagliasso lega nel sottolineare la forte centralità che stanno sempre più acquistando le comunità energetiche ha chiesto, prima di votare, di attendere i decreti attuativi del governo in materia Nella discussione generale è intervenuto Giorgio Bertola, Europa Verde, annunciando sostegno alla proposta Sarà commemorato con una tre giorni di iniziative dal 30 giugno al 2 luglio l'ottantesimo anniversario dell'ecidio del Colle dell'Issi in cui persero la vita 32 giovani partigiani Negli stessi giorni nelle valli Belbo e Bormida saranno ricordati i martiri partigiani del Falchetto di Santo Stefano Belbo Il programma delle celebrazioni è sostenuto dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale Oggi presentiamo due iniziative legate alla memoria Una sono i tre giorni organizzati al Colle dell'Is dove giovani da tutta Italia e anche da altre parti d'Europa si ritroveranno insieme anche agli amministratori locali per momenti di formazione, di approfondimento e poi di ricordo del sacrificio dei tanti che nelle nostre vallate hanno combattuto la resistenza Lo stesso capiterà al confine fra la provincia di Asti e quella di Cuneo e quella di Alessandria con la commemorazione dei martiri del Falchetto che diventa l'occasione per una tre giorni di musica, approfondimenti, presentazioni sempre dedicati al tema della memoria e del ricordo della lotta di liberazione Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti